che pareva da questo mi segnala il quick goal bellington a terra ok a terra io ho attaccato la sente attaccato Occhio sono qua fuori C'è un altro Ho solo 14 colpi Qua finiscilo Tutti a terra sono Qua finiscilo A terra Ripatemi questa Oh ma st'elicottero Oh ma questo lo vuole vendere qua Caccato Tu muovi il cazzo E manco tua madre per concepirti Una a terra Due a terra Full team Porco zio dai 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 Ho fatto tutto il team ragazzi Non riesce a nascondere Ok ok Ho fatto quello che ci rompeva le palla Bola Bola Fatemi fare una mostrata speciale E le clip più belle di dicembre Del nostro canale twitch Finiscono qui Dicembre è stato un bel mese Per il nostro canale twitch Ragazzi Perché abbiamo fatto anche una maratona Che è partita da 24 ore Arrivando fino a 80 ore Per chi ha visto questo video E gli è piaciuto Vi invito a lasciare un like E a seguirmi in tutti I link che trovate in descrizione Al prossimo video